Bentornati, bentornati sul canale. Ci siamo, ci siamo. Finalmente è arrivato il giorno tanto atteso di Inter Roma, il giorno che tanti tifosi nerazzurri stavano aspettando. Una partita che si arricchisce anche di significati differenti dopo l'1-0 della Juventus di ieri al 97 sul Verona. Una partita molto turbolenta nella quale ci sono stati due gol annullati per carità giustamente dai richiami VAR ma che non hanno chiaramente evitato le annose e anche pretestuose polemiche di una certa parte di stampa. Poi con il gol arrivato praticamente a metà del primo tempo supplementare della Juventus su un recupero piuttosto corposo dovuto anche a corposo proprio dovuto anche ai richiami del VAR. Ormai ci siamo abituati e dobbiamo continuare ad abituarci a questi lunghi lunghi minuti di recupero. Sostanzialmente un successo prevedibile della Juve contro un Verona che ha badato di fatto solo a difendersi anche se non mancano alcuni episodi arbitrali. In particolare il pugno di Gatti a Juric non visto né in campo né al VAR. Evidentemente Gatti è uno che può utilizzare i pugni e menare le mani come vuole considerando l'anno scorso quello che era successo con Quarazchelia e quello che è successo è che è successo ieri. Quindi Juve che sale momentaneamente prima in classifica ho letto titoli e titoloni oggi sulla Juve che torna prima l'Inter manca una partita e pure al Milan. Quindi va bene tutto però insomma almeno quello che è oggettivo andrebbe sottolineato. E allora l'Inter si è raccomandato Inzaghi e ha detto non sarà ai suoi dentro le muradi a piano perché poi ieri non ha parlato nemmeno lui e non ha parlato nemmeno Murini. Chi con una scusa? Chi con un'altra? E ha detto mi raccomando non sarà Inter contro Lukaku ma sarà Inter contro Roma. La Roma che arriva con diverse difficoltà di formazione non ha recuperato Dybala, non ha recuperato Smalling, restano fuori i lungodeggenti quindi i vari a parte Abram che manca da diverso tempo, Pellegrini, non c'è nemmeno Spinazzola che non ha recuperato come invece ha fatto Asmun che comunque dovrebbe andare in panchina. Un solo piccolo dubbio per Murigno quello a centrocampo tra Bove e Awar e mancherà anche Kumbulla che è un altro di quelli che fanno parte della lista disponibile all'anno scorso come Abram quindi sì lo calcoliamo perché è rosa ma sono assenze ormai digerite da mesi. L'unico dubbio è che Bove e Awar invece in attacco ancora il Sciarawi con Lukaku dovrebbe essere preferito a Belotti l'ex milanista. Per il resto Zaleschi a sinistra e Karlsdorp a destra. Llorente invece guiderà la difesa al centro con Mancini e Indica. Quindi diverse defezioni per Giuseppe Murigno che ha caricato a pallettoni questa sfida pungendo l'Inter in diverse misure e in diversi e in diversi modi diciamo. Per quanto riguarda Inzaghi tornano tornano quattro giocatori che non avevano preso parte almeno inizialmente alla sfida con il Salzburg. Indipendita torna Acerbi che sarà il primo giocatore deputato ad arginare Romelu Lukaku. Si è fatto un gran parlare in questi giorni di Acerbi su Ozymen, Acerbi su Haaland e quindi Acerbi su Lukaku. È un duello comunque una delle chiavi di questa partita. Ha confermato Pavard, ha confermato Bastoni e invece torna Di Marco a sinistra al posto di Carlos Augusto. Sia Di Marco che Acerbi peraltro non erano nemmeno entrati contro il Salzburg. Qui invece ha fatto Barella che si riprende il posto a titolare in luogo di Frattesi. Il centrocampo quindi con Ciala, Nolu e Mkhitaryan centrali e a destra Denzel Dumfries confermato e infine in attacco riecco Thuram in coppia con Lautaro Martinez. La nuova coppia che vede Lautaro che negli ultimi tre anni è passato da Lukaku a Dzeko, ultimi quattro anni diciamo, Lukaku a Dzeko, poi ancora uno tra Lukaku e Dzeko e adesso con Thuram. E lui è la costante dell'attacco dell'Inter che devo dire ha avuto una crescita esponenziale tanto merito suo, anche degli allenatori che ha avuto, ma tanto merito suo perché sta limando anche aspetti caratteriali che fino a poco tempo fa potevano essere per lui una di Minuzio. A proposito di Minuzio, un ragazzo, non so un ragazzo, un signore, non lo so, mi ha commentato sul video di Taremi, sull'ultimo video che ho fatto di Taremi che non mi seguirà più perché ultimamente sto divagando. Non ho capito bene in che termini io stia divagando, però per carità è una scelta legittima, quindi ci sta. Non porta assolutamente nessun tipo di rancore, solo mi incuriosiva l'aspetto dello stare a divagare perché poi non ha specificato l'autore del commento, quindi non ho capito bene in che termini io stia divagando. Forse la questione del rubinetto, ogni tanto si alleggerisce anche il discorso, anche per ristaurare un tipo di rapporto, a parte che è vero comunque, no il miscelatore è nuovo quindi non c'è nessun tipo di problema e poi quando sono accediti termosifoni, perché ho fatto la prova, comunque esce l'acqua calda, invece quando sono spenti è solo lì, non lo so, veramente è strano. Quindi queste sono le due probabili formazioni, nel frattempo in questi giorni, nelle ultime ore, si sono rincorse tutta quella serie di discorsi su Lukaku, sui fischietti, sui fischi, le applicazioni utilizzabili, qualcuno che ha proposto addirittura di cominciare a ridere quando tocca la parola Lukaku sarebbe una roba curiosa, immaginate se tocca la parola Lukaku a tutti, a 70.000 persone che ridono, poi uno dice, poi segna magari ridi meno, è chiaro, ma io ripeto ragazzi, io l'ho detto da tempo, io sarei per ignorare francamente, ignorare is the way, sarebbe la cosa che lo ferirebbe di più, poi lo dico da mesi, la storia va raccontata tutta, andrebbe ascoltata la parte di Lukaku, però lui dice parlerò, parlerò e non parla mai, forse non c'ha niente da dire, mi viene da pensare, soprattutto dopo le testimonianze dirette di Lautaro, di Marco, eccetera, anche per quello che mi hanno raccontato, insomma, non so veramente cosa possa raccontare Lukaku per scaricare il barile da qualche altra parte. È uscita anche la frase che avrebbe detto Ausilio proprio a Lukaku in quel famoso ormai 14 luglio che passerà la storia non più solo come la presa per la Bastiglia o per il compleanno di mia cugina, ma anche per la telefonata di 30 secondi tra Lukaku e Ausilio, che in realtà è stata solo di Ausilio a Lukaku, anche se pare abbia chiamato il belga, Ausilio gli avrebbe detto vergogna di non ci si comporta così, tutto 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 tutto. Comunque Lukaku o non Lukaku, fischietti o non fischietti, è una partita che l'Inter deve vincere, è una partita che deve ristabilire anche la priorità nera azzurra su San Siro perché l'Inter viene dal pari col Bologna e prima ancora dalla sconfitta col Sassuolo una squadra che vuole ambire allo scudetto e che deve fare i conti con una Juventus ringaluzzita al di là di come siano arrivati determinati i risultati perché ieri altro che cortomuso è stato proprio un musino proprio no? L'Inter deve ristabilire una supremazia in casa che è la base sulla quale di solito si fondano le cavalcate vincenti almeno per quanto riguarda il campionato un saluto un saluto